Ciao a tutti, sono Nick Mumerati, insegnante di basso di Experience Music Academy, dove mi trovo in questo momento, scuola dove insegno ormai dal 2009. Questa è una scuola veramente eccezionale, dove troviamo un grande corpo docenti, un grande staff e un grande staff tecnico di segreteria, molto attento ai bisogni degli insegnanti ma anche di ogni studente. Abbiamo delle strutture fantastiche e la possibilità anche di registrare, infatti come vedete mi trovo all'interno dello studio di registrazione in questo punto. Il mio metodo didattico è improntato su vari percorsi, tanto che non sono solo insegnante di basso all'interno di questa scuola ma anche di musica d'insieme e ho insegnato spesso anche teorie di armonia. Ma parliamo ora principalmente del mio corso di basso. da un lato ci occupiamo delle tecniche che si usano prettamente su questo strumento, disiccato, slap, palm muting eccetera, dall'altro della corretta conoscenza dell'armonia e della teoria applicate sul nostro strumento. vi aspetto per provare insieme questo mio corso di basso che all'oggi ha visto parecchio, che gli allievi passare per riguardo. Ti aspetto, buona giornata.